Ecco, è appena arrivato! Appena arrivato! Pronto! È una grande responsabilità, qua c'è Padre P. Non è una grande responsabilità, è un bellissimo privilegio, un bellissimo privilegio, poter condurre una trasmissione così importante, ma che deve essere fatta per bene. Quindi il risultato non solo del programma, ma anche quello che vuole fare il programma, cioè arrivare al cuore, all'animo delle persone, scuotere le coscienze e soprattutto tutti insieme raccogliere, nella vita serve anche la parte materiale, non di solo pane vive l'uomo, ma serve anche il pane appunto. E quindi insieme si può fare qualcosa anche quest'anno di molto bello, di molto importante per le persone più bisognose, in particolare i bambini, in particolare quest'anno per l'Africa.